Un convegno a Teramo sul recupero e valorizzazione del sito archeologico del Teatro Romano di Teramo ed un altro a Pescara sul tema nuovo di Gabriele D'Annunzio e la comunicazione di massa. Sono i due eventi promossi da Regione Abruzzo e amministrazioni comunali dei due capoluoghi per la quinta settimana della cultura 2003. Nel primo caso, il poveriggio del 9 maggio, nel Museo archeologico, il convegno dovrà servire da momento di compronto tra enti locali, comune, provincia, regioni e associazioni sulla destinazione del sito archeologico per predisporre così un progetto sul suo recupero e restauro da presentare al Ministero dei Beni Culturali entro giugno prossimo. La spesa prevista è di 10 milioni di euro. Nel secondo caso, il 10 maggio prossimo, nella sala convegni della Facoltà di Architettura di Pescara, si celebreranno in questo modo i 140 anni della nascita di D'Annunzio con la presenza del Presidente del Vittoriale, Anna Maria Andreori, Ugo Pagliai e Paola Gasman, che leggeranno brani di D'Annunzio. Obiettivo della Regione Abruzzo, ha detto l'assessore regionale alla promozione culturale Bruno Sabatini, parlando del convegno di Teramo, è quello di finanziare il progetto di recupero del teatro romano attraverso i fondi dell'otto 2003-2006 che saranno assegnati tra giugno e luglio prossimi. Al convegno è stato così invitato il capo di gabinetto del Ministro per i Beni e le Attività di Cultura. La Regione, aggiunto, ha già fatto uno sforzo prevedendo in bilancio 250.000 euro che dovranno servire, integrati con altri fondi, per acquistare il palazzo che esiste nell'area archeologica. Questo lunedì, difatti, è previsto un primo incontro con i proprietari della struttura. Nel frattempo, ha concluso l'assessore, la cittadinanza terramana dovrà decidere se demolire il palazzo una volta acquistato, consentendo la ricostruzione del teatro romano all'aperto, come è venuto in altre città italiane, o se recuperare il palazzo e trasformarlo, per esempio, in un museo, rinunciando però al teatro.